Come lei saprà, l'onorevole Lanzillo d'Italia Domani ha proposto di sostituire le prossime elezioni politiche con un sondaggio a cura di Renato Mannheimer. Lei è d'accordo? No. Sì, sono d'accordo. Non sono bene informato sulla questione. Per me secondo me non va, non sono d'accordo. È più giusto fare un sondaggio, cioè è più rapido, più veloce. Ne guadagna soprattutto anche l'ecologia. Più si parla di privacy e più si invade la privacy. Niente sondaggi, grazie. C'è chi dice che questa legge ci farebbe risparmiare milioni e milioni di euro. Beh, avremmo potuto risparmiarne tanti anche accorpando il referendum con le politiche. Io ho studiato statistica all'università e le assicuro che dal punto di vista relazionale non è servita nulla. Grazie all'onorevole Lanzillo ci sono idee belle come questa cosa.